Tu parlavi di cliché letterari, perché ci vedi una grande dammaturgia dietro questo racconto. Intanto vedo una cosa che è tipica proprio dello schema, ma vorrei scomodare, della tragedia. C'è una cosa che noi siamo, tra l'altro in queste elezioni siamo coinvolti, ci sentiamo in prima fila, ma perché c'è l'Ucraina di mezzo, ci sono delle cose che ci riguardano, riguardano l'Europa, la tenuta anche del nostro modo di vita. Non studiamo gli americani come potevamo fare altre volte, perché per riferirmi a uno storico testa a testa, quello tra Bush e il giovane Al Gore del 2000, io stavo per Al Gore, però era un'opzione tra due livelli e percezioni della realtà. Dentro un bipolarismo accettabile, potabile e democratico. Si è innestato un dislivello, che ha, secondo me, un'origine simbolica, che tra tutte le cose che si è lasciato dietro Donald Trump nella sua vita, non ha avuto un rilievo, che è stata una mancata telefonata. Quando Biden ha vinto, e ha vinto pulito, perché non c'è una persona che possa sostenere che con quella patetica scusa delle poste ha creato un colpo di Stato, un fallito colpo di Stato alla Bolsonaro, ma non c'era niente. Allora, la democrazia non è solo suffraggio universale, è anche il riconoscimento delle persone. E questo riconoscimento non è un appendice, un qualche cosa che avviene, una cortesia. Vuol dire, siamo i due leader in un sistema maggioritario come quello americano, sono solo due, chiaramente, e abitiamo la stessa realtà. Quello mancato riconoscimento indica un dislivello, come nella fantascienza, no? Come nelle più classiche cose di fantascienza, c'è un tombino, ci sta un'altra dimensione, i marziani, il tempo va all'indietro. Questo è il rischio. Di fronte a questo rischio è una questione di sensibilità individuale. Io, ad esempio, sono una persona di sinistra che è abituata a pensare, che ne so, non penso molto bene di Mélenchon oggi, non penso molto bene a maggior parte dei leader comunisti del Novecento che hanno creato delle... Quindi, diciamo, se l'essere di destra, io lo dico anche per l'opinione italiana, eccetera, significa accettare questa cosa, è un problema culturale, una specie di virus, da non sottovalutare. Perché, appunto, non farei mai un discorso del genere su Ronald Reagan, non farei mai un discorso del genere su Margaret Thatcher. Cioè, finché almeno i fondamentali del confronto erano chiari... Spartiamo la stessa torta, cioè quello che i greci chiamavano koinos cosmos, cioè il mondo condiviso. Poi dice Heraclitro, un famoso frammento, cioè anche l'idios cosmos, cioè quello che uno vede solo nel suo sogno, nella sua percezione individuale. Erigere quello a programma politico è una cosa che per me non ha una critica politica. Io evocherei il diabolico, questo è una cosa... E lo stesso Trump ad aver parlato di verità alternativa, quindi non a caso. Ma poi questo si porta presso che l'odio per lo scienziato, l'odio per il vaccino, l'odio per... Questo è un filone inesauribile. Adesso arriveranno alle tabelline, anche le tabelline saranno... Ci fermeremo prima, sono certa, se no ci estendiamo. Un'invenzione dell'elite, vedrete che queste quattro...